Ciao a tutti, sono Sara Blanc e mi trovo nuovamente nel Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, un teatro che amo tantissimo, dove ho debuttato quest'anno scorso, però già mi sento come a casa per tutte le persone che ci stanno dentro e per il modo di lavorare, fare musica e fare arte. Mi trovo qua per interpretare il ruolo di Anne nell'opera di Rex Progress di Stravinsky e vi invito a tutti voi a venire. È un linguaggio musicale sicuramente diverso per tante persone che sono abituate all'opera classica, però è un linguaggio che vi piacerà, vi invito molto a venire e a scoprire per quelli che non lo conoscono e a goderlo per quelli che già ne conoscono, ne vale tantissimo la pena. Noi abbiamo lavorato tantissimo tutti insieme, abbiamo fatto un gran equip e vi aspettiamo qua in teatro. Il mio ruolo in questa opera è un personaggio che è pieno di luce, è un personaggio che rimane sempre in contatto con la natura, con gli animali, è un personaggio fresco che però gli capitano delle cose durante l'opera che la fanno un po' soffrire a Anne. Però alla fine lei diciamo che rimane sempre se stessa, non perde il suo centro e vuole alla fine che tutti stiano bene, si assicura soprattutto di quello e lei continua con la sua vita e va avanti. E questa è una donna che ci dà anche la forza e la speranza. Per questo vi invito a venire a scoprire anche la sua storia. A presto, ciao!